Dottor Favero, allora c'è l'aspetto che purtroppo è associato ai dentisti, storicamente forse è dolore, 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 e forse perché quando poi capitano i dolori ai denti sono veramente molto fastidiosi. Dopo il parto dicono che sia il più doloroso la pulpite, cioè il mal di denti, quello che pulsa, quello per carie. E come si fa a ovviare a questi dolori? Beh sicuramente con la prevenzione, sicuramente con una buona anestesia fatta in maniera corretta e con l'utilizzo della tecnologia che oggi ci aiuta tantissimo. Quindi l'anestesia ha la sua importanza e anche in questo siete all'avanguardia? Sì, c'è l'anestesia classica, quella locale, la sedazione è un'altra cosa, è un'ansiolisi, viene fatta con l'anestesista, viene inserito del Valium, Endovena, delle benzodiazepine che sono dei farmaci che si prendono anche a casa per rilassarsi, dormire, delle cose, solo che presi per via orale, per bocca, sono meno potenti, inseriti immediatamente in vena il paziente si rilassa subito e l'ansia viene eliminata, questa paura del dolore. Esatto, è ansia quella che ha il paziente più che dolore e sappiamo che comunque l'ansia può trasformare e amplificare il dolore, si può trasformare in panico e quindi quello crea sicuramente un problema, però se viene controllata questa paura che non si trasforma in panico con l'ansiolisi, la sedazione, il paziente si rilassa e io la consiglio soprattutto per interventi importanti come rifare un'arcata o tutta la bocca, ma per un semplice impianto insomma in base al dentista che lo esegue per fare un impianto semplice in una zona di osso qualità non è che in due minuti, tre non ci si mette di più e quindi... Siamo arrivati a queste tempistiche velocissime. Almeno io faccio così perché ripeto questo lavoro è legato moltissimo secondo me sempre alla manualità dell'operatore, non solo, è chiaro, alla conoscenza della materia, i congressi, i corsi, la tecnologia, però dopo la manualità... Come sempre più interventi si fanno, più si lavora, più manualità c'è. Più uno ha questa esperienza, più manualità, il dentista che fa dieci impianti sicuramente non ha la stessa esperienza del dentista che ne fa mille e quindi anche in quel caso là io consiglio sempre, da questo un po' scuola americana, di cercare di non, se si è alla prima armi, di non gettarsi e fare delle cose se non si sanno fare, se non si ha esperienza perché non se ne sono fatte tante e quindi di confrontarsi magari con colleghi e di referenziare il paziente solo per la fase chirurgica e dopo il dentista che fa l'intervento rimanda al proprio dentista per la parte protesica. In America funziona così, su specialità. Sono specialità, cioè ognuno fa il suo perché non si può fare tutto. Però noi siamo abituati ad andare dal dentista che ci risolve tutti i problemi, invece non è... Però non è così, ci sono infatti le nuove figure del dentista, dell'implantologo, del parodontologo, del chirurgo, del protesista e anche del semplice endodontista, cioè della cura canalare. Io faccio cure canalare però ne ho fatte poche perché sono uno specialista, un chirurgo. ho il mio endodontista che fa solo cure canalare e quando un paziente ha bisogno di fare quello lo mando, prendo appuntamento con il dottor dal dettaglio del mio studio che fa solo endodonzia dalla mattina alla sera e sicuramente è molto meglio. Quindi lei mi sta anche, ci sta supportando nel comprendere certe dinamiche di funzionamento degli studi multidisciplinari, cioè è bene che, perché tante volte ci siamo abituati che il nostro, da piccoli no, quello è il dentista, ti segue per tot di tempo della tua vita e ti fa tutto, qualsiasi cosa, fino a quando arriva all'impianto in età, adesso no. Adesso non è più così, o diciamo per fortuna si è sviluppata questa figura di clinica multidisciplinare con più professionisti e ognuno specializzato nella sua materia. Se non c'è questa multidisciplinarità è un po' da sospettare. Se non c'è in questa multidisciplinarità si spera che il dentista conosca più discipline, che faccia più cose, altrimenti consiglio sempre di riferire, mandare a fare quello che non si può fare, anche perché altrimenti il dentista non può consigliare e operare nella globalità dei trattamenti. Se un dentista generico nel suo studio non fa impianti e non li manda, non potrà dire al paziente guardi può avere un lavoro fisso e quindi può fare le impianti, gli dirà guardi mi dispiace non può fare, non le posso fare, vado in una clinica. No, se non lo fanno, perché a volte dicono, qua non si può fare impianti, senza dare una spiegazione al paziente. O dicono non c'è osso, ma magari l'osso c'è, ma per la loro esperienza non c'è osso, per la loro conoscenza della materia non c'è osso e allora il dentista propone una cosa diversa, propone un ponte o una protesi mobile e questo non lo trovo corretto insomma perché il paziente non è informato, non può sapere siccome va da quel dentista da tantissimo tempo si fida di quello che gli dice e pensa che non ci sono altre soluzioni adesso siamo arrivati a un punto, me ne accennavo un po' anche fuori onde in cui veramente si possono curare quasi tutte le patologie legate ai denti, alla bocca sì, assolutamente sì in modo anche meno impattante rispetto a una volta ormai diciamo che dopo ne parleremo in un'altra puntata ce ne lo dedicheremo però proprio del flusso digitale grazie alla digitalizzazione, alla tecnologia avanzata creata da dentisti e dalle varie aziende oggi curare i pazienti è diventato molto più facile anche per i dentisti stessi che non hanno esperienza se loro si muniscono di questa tecnologia anche un dentista che non ha mai fatto impianti grazie a questa tecnologia si possono creare delle dime per esempio chirurgiche con i fori già fatti di dove fare il buco il dentista deve solo fare questo movimento il buco è già fatto, non può sbagliare l'angolazione della fresa quindi c'è una precisione c'è una precisione incredibile, mostruosa e quindi tutto diventa più facile e oggi secondo me è una realtà, non è il futuro è una cosa reale, è il presente e bisogna fare così è con lei che partecipa a moltissimi convegni ovunque per aggiornarsi eccetera sta evolvendo molto l'applicazione tecnologica in chirurgia odontoiatrica siamo arrivati appunto alla famosa chirurgia computer guidata anche nell'ambito odontoiatrico si pianifica tutto prima al computer e dopo con stampanti 3D con queste aziende che hanno dei macchinari che permettono la creazione di queste dime chirurgiche si può preparare al computer prima tutto l'intervento e quindi dopo quando si va in fase chirurgica non dobbiamo più tagliare, non dobbiamo più sotturare non dobbiamo più scollare e quindi tornando al discorso del dolore il dolore ormai scompare completamente e questo ha un ritorno per il dentista incredibile da un punto di vista dell'immagine perché se un paziente si presenta in studio con l'ansia è sempre questa gran paura del dentista e del dolore perché non sa cosa gli aspetta quando il dentista si munisce di una poltrona all'avanguardia, cioè riunito dove il paziente si sede con una seduta ormai memory foam con la poltrona che gli fa, che gli fa il massaggio tutto digitale quando gli fa il massaggio? ci sono dei nuovi riuniti che sono molto comodi quasi come il nostro letto hanno una seduta memory foam si chiamano che prendono la forma del corpo del paziente che odia sedersi in quella sedia e all'interno ci sono dei rulli che massaggiano il paziente e quindi sì io l'ho appena acquistata e non vedo l'ora e è un grandissimo investimento costano tantissimi soldi per il dentista però cambiano la vita secondo me ti concentri sul discorso del massaggino che ti sta facendo e sono tutte cose quindi tecnologie che servono ad aiutare il paziente e il dentista a migliorare il viaggio odontoiatrico diciamo per il paziente la seduta, la terapia renderla più morbida, più semplice e potrebbe essere anche piacevole piacevole sicuramente grazie dottor Favero di questa divagazione che abbiamo potuto fare però molto interessante perché effettivamente ci sono tantissime opportunità bisogna come sempre studiare studiare, prepararsi, aggiornarsi come fa il dottor Favero costantemente ringraziamo della collaborazione alle cliniche Favero e noi naturalmente ci troviamo prestissimo per affrontare un altro capitolo a dopo a vederci Grazie a tutti Grazie a tutti.